Tutto il collegio è solo su RaiPlay, scarica l'app. Tornata alla pace, i ragazzi si possono dedicare a qualche simpatico passatempo. No, 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 questo no, sacrilegio. Tipo uno se lo facesse cosa succede? Niente, non succederebbe niente. Posso avere la metà? Posso farti un A? Che soddisfazione! No, no! No! Fallo pure, Lorenzo. I peli! Ho tagliato i peli a Maria Sofia. Guarda, faglielo vedere, faglielo vedere. No! Lo fa, togli questo taglio! Hai visto? Puoi farlo anche tu se vuoi, se non ti fa troppo schifo. Questa è una cosa molto strana, però la mia defilazione così improvvisa è nata per gioco. Li posso fare tutti. Certo che puoi! Tutti? Oddio, il mio sogno! Si sta operando! Sono solo a ripeni a Maria Sofia! Nooo! L'ho depilata! Io pure l'ho depilata! Nooo! Non mi frega niente, l'importante è che loro si siano divertiti, mi sto a divertire pure io, ho una cifra, e che ovviamente abbiano smesso di litigare. Ragazzi, questo lo sto facendo per voi. Come risolvere un litigio, fare i peli a Maria Sofia. Va bene. That's the leg of peace, babe. No, 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 no. Grazie a tutti